ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video ragazzi questo è il secondo video della serie impianti fotovoltaici super economici allora ragazzi questa volta andremo a vedere un impianto da 450 euro circa ok è sempre un impianto connesso in rete perciò in grid eccolo qui in grid e andrà a utilizzare due pannelli ok due pannelli solari fotovoltaici io ho messo nell'esempio dei 400 5 watt però potrebbero essere anche pannelli differenti in base poi alla tua necessità l'inverter è questo è un micro inverter doppio combo come ingressi e 600 watt autonomo fa tutte le varie regolazioni interne si collega direttamente nell'appartamento tramite presa asciugo in dotazione di danno vari accessori eccoli qua sotto comunque è tutto in descrizione questi sono tutti gli accessori c'è anche il display dove ti indica quanta energia prodotto nel tempo e perché 450 euro perché ragazzi l'inverter costa ora ti dico l'inverter quanto costa allora l'inverter sotto in descrizione trovi il link ripeto costa 150 euro ok due pannelli solari mono cristallini per 405 watt ultima generazione ripeto come nello scorso video e qui siamo intorno ai 170 circa più 170 perciò facendo la somma abbiamo 340 euro 340 di pannelli e 150 vabbè intorno ai 450 490 perfetto perciò totale 490 euro per avere che cosa ragazzi un impianto fotovoltaico non con accumulo attenzione questo è un impianto connesso in rete ti andrà a produrre durante il giorno e poi di notte non più si connette in rete sempre tramite la cavetteria in dotazione a differenza dell'altro questo è 600 watt qui abbiamo i due pannelli solari fotovoltaici ognuno per ogni ingresso per esempio 400 e 400 massimo ovviamente inverter da 600 watt va a produrre ragazzi buoni 600 watt circa perché poi ti bisogna vedere l'inclinazione bisogna vedere la quantità di luce che c'è comunque ti darà una bella carica di energia elettrica questo è un kit economico ragazzi se vuoi vedere altri kit economici magari con batteria un gruppo d'accumulo scrivimelo sotto fammelo sapere a 150 like ragazzi andremo a lanciare il terzo video della serie dove appunto andremo a vedere un impianto solare fotovoltaico da 3 kilowatt però off grid sconnesso dalla rete però stavolta non con pacco batteria ok perché si può anche fare se vuoi vederlo con pacco batteria scrivimelo sotto e più avanti andremo a vedere un altro video perciò se anche tu stai cercando impianti fotovoltaici vuoi costruirti il tuo impianto fotovoltaico e non sai come iniziare quanto ti può costare guarda questo impianto sta sotto i 500 euro dai 450 ai 490 dipende quali pannelli vai a mettere ovviamente e dipende dove vai a ordinarli se vuoi pannelli solari a buon prezzo 405 watt a 170 euro circa sono un prezzo eccezionale questo potrai averlo solo ed esclusivamente se ordini un pallet dallo sponsor del canale se ti interessano i pannelli sappi che lui vende palletti interi da circa 37 pannelli cada uno però a prezzo ovviamente concorrenziale competitivo al massimo parliamo di pannelli ragazzi di prima classe parliamo di pannelli di ottima qualità ragazzi per questo video è tutto ciao e al prossimo video